Dopo una lunga seduta che si è protratta per quasi l'intero pomeriggio di martedì 12 settembre e che ha visto numerose sospensioni, il Consiglio regionale della Basilicata ha convocato in sessione straordinaria per discutere l'assegnazione di risorse extra budget alle strutture sanitarie private accreditate, ha deciso di rimandare la decisione. La proposta di rinvio è stata avanzata dal consigliere di Fratelli d'Italia Pier Giorgio IV, con l'obiettivo di trovare soluzioni più efficaci. Il motivo rappresentato è quello di assicurare una continuità con le decisioni prese dalla precedente assemblea consigliare. La sessione era stata inaugurata con una dichiarazione del governatore Vito Bardi, un appello a trovare soluzioni in maniera sinergica per superare il no da parte del governo che ha spinto il governatore a fare retromarcia proprio sullo stanziamento extra inserito nell'ultima legge di bilancio. Alcuni esponenti della minoranza hanno immediatamente espresso contrarietà, rammarico per il tempo trascorso e un invito rivolto al presidente Bardi a recuperare le indicazioni emerse nella capigruppo al fine di risolvere l'annosa vicenda. Sono stati espressi dal consigliere Pittella. Il consigliere Zullino anche ha manifestato disappunto. Il tempo è già scaduto. La maggioranza è arrivata in consiglio senza una proposta concreta, attuonato Cifarelli. Anche i consiglieri Braia, Perrino e Viziello hanno sottolineato come il trascorrere del tempo non sia stata utile a risolvere il problema. Tutti auspicano in una interlocuzione efficace con il governo per risolvere così l'annoso problema delle liste d'attesa che purtroppo tendono ad allungarsi sempre di più a scapito dei cittadini.